buongiorno eccome che sono tornato nel posto vicino al capannone delle oche ci sono stato qualche giorno fa avrei dovuto aspettare forse un po più ma il contenimento si sta chiudendo mancano pochi giorni allora ritentiamo cambiato posto sono spostato più nella direzione dove le cornacchie ho visto sono abituate a passare e allora speriamo bene a tra poco maaa 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 maa perfetta a 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 Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.